Cari amici, cosa direste se io vi raccontassi che in questi giorni è uscito il libro di un scrittore e pensatore italiano che è stato paragonato in passato a Montaigne, Liderot, Ulisse, Virgilio, D'Alembert, Cervantes, Milan Kundera, James Joyce, Baudelaire, Leopardi, Rilke, Proust, Nice, Calvino e Montale. Poi a questi un critico come Alberto Azorrosa ha aggiunto Pascal, Tocqueville, Spinoza, Marx, Cartesio, Kant, Dostoievski e Tolstoi. Invece il filologo Cesare Segre aveva completato il quadro raggiungendo ai nomi già citati Proust, Kozhev e Fumaroli. Beh, allora, non mi sembra che fuori dalla finestra ci sia un nuovo rinascimento italiano, però evidentemente sono io che mi sbaglio. Ma chi è questo grande pensatore? Beh, è Eugenio Scalfari, solo per caso incensato dalle pagine di Repubblica e da solito giro degli amici, degli amici, degli amici. In questi giorni è uscito un suo libro di poesie, L'ora del blu, di Eugenio Scalfari e Inaudi. Devo dire che è meno peggio di quello che uno si aspetta, però le poesie sono queste, vi leggo qualche verso. La notte sentivo il respiro del mare e mi sembrava il respiro dell'universo, che si espande e si restringe, e le stelle cambiano posto. Alcune sono già spente, ma la loro luce arriva ancora, viaggia per conto proprio e lo spazio è lunghissimo da percorrere. Sono più o meno le cose che i fidanzatini di 14 anni si dicono in spiaggia, però per il mondo della cultura italiana questi pensieri sono all'altezza dei nomi che abbiamo citato prima. D'altronde non c'è da stupirsi perché, prendo un altro documento, l'ex leader del Partito Democratico, Walter Veltroni, autore di film e libri a bizzeffe, è stato paragonato a Pirandello, Conrad, Tarkovsky, Borges, Chagall, Toulouse-Lautrec, Leopardi, R.G. Ince e Ian McEwan. Va bene, non commentiamo neanche, lasciamo perdere.